Allora, il maestro è tra gli amici di Oscar, un'amicizia cementata dal lavoro e incrementata grazie al pathos e al sentimento. Cosa avete combinato insieme? Allora, diciamo che io lo conosco da 35 anni almeno. Comunque abbiamo scritto una canzone che si chiama La Nostra Canzone che poi è diventato l'inna della Lega Pro e l'hanno trasmesso in tutti dedicata all'Italia, al nostro paese. Ma la canzone. Poi abbiamo scritto Il Mondo di Frutta Candita e poi delle altre canzoni miei adesso non me le ricordo tutte perché purtroppo ho perso un po' la memoria. Maestro, però noi siamo qua per festeggiarlo stasera. Lei che cosa si aspetta da questa sera? Albania, io sto arrivando dall'Albania, sono arrivato, ho preso la macchina, ho messo il navigatore, mi ha fatto fare due mila cili, però alla fine... Oscar che amico è? Che tipo di amico è Oscar? Lui è simpatico, lui è simpatico, allegro, proprio per natura. E lei che tipo di amico è? Io? Io sono un buon amico, basta dire che sono arrivato qua dall'Albania perché è la sua festa. Grazie, allora le auguro un ottimo spettacolo, un buon ascolto e ci vediamo in sala. Grazie.